mamma 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 thumbs up Dio! sa che bueno eccellente più 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 ma, gravemente insufficiente sei a rischio sospensione la peggio della scuola, guarda che godaccio che ha preso, guarda nonno eeeh che sarà mai, capirai, povera fila di nonno, che sarà mai, studierà domani, dopo domani, c'è una vita per studiare mamma, mamma, vuoi fare modella? Angeli, quante volte ti ho detto a mamma che il pane modella non si mangia, ti fa male, pane formaggino, pane aglio, no, pane modella no, niente pane modella, ecco, 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 mangiate questo, evviva la solita, c'era una volta un re e una regina che dopo averla tanto sei minuti, allora le merenda, pane, formaggino mamma l'ha preparato con le manine proprie, ma a me non mi piace mamma, con le manine proprie a me non piace non mi interessa, quali sono le merende genuine donna, dirò un po', vieni un po' un attimo, vai, eccole le merende genuine, buffer cacca cola nutella batti 5 donna ma come? l'abbiamo comprato ieri, l'amierica, com'hai fatto? non è possibile, un giocattolo nuovo, nuovo non c'è il giocattolo di 4 donna è e io vado prima che tu pagano la mia sparcia e io vado va is called Ciao mamma, io vado su E' un po' che?